Siamo in via Leopardi a Magenta dove si è sviluppato un incendio di un bel tratto di questi alberi che cadono ormai sulla strada. I residenti infatti denunciano uno stato di degrado di infuria che continua da tempo. Qui sul posto sono giunti i vigili del fuoco di corbetta che hanno ormai domato le piame.